Ben ritrovati, come è stato? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi, di partecipare alla nostra trasmissione qui su YouTube, commentando, provate a vincere anche la maglia di Raffa Leao, qui sotto ci sono autografate le indicazioni per provare a vincere. Novità sul calcio scommesse, allora, per quanto riguarda Fagioli sta collaborando, andrà verso il patteggiamento per ottenere uno sconto della pena che potrebbe alla fine arrivare intorno ai 18 mesi di squalifica. Attenzione perché dalle chat emerge che, usiamo il condizionale ovviamente, sembrerebbe che anche Bonucci sapesse del vizio del gioco sul calcio del compagno e quindi Bonucci rischierebbe sei mesi almeno di squalifica per omessa denuncia. Dall'altra parte risultano altri due giocatori giovani della Juventus che pare scommettessero anche loro sul calcio e un collaboratore dello staff di Allegri che sapesse del tutto. Quindi non ci sono prove sul fatto che Bonucci giocasse, ma pare ci siano prove sul fatto che lui sapesse, quindi chi sapeva verrà probabilmente squalificato con almeno sei mesi di stop. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece Tonali, lui verrà ascoltato nelle prossime ore, è tornato in Inghilterra, ma secondo fonti investigative, gli inquirenti hanno in mano che i tre, quindi compreso anche Zagnolo, giocassero su partite del campionato italiano e sulla Champions League. Capite che a questo proposito la gravità aumenta sperando che non giocassero davvero sulle proprie squadre perché altrimenti si potrebbe aprire ulteriormente con scenari che ci auguriamo di non commentare. Queste le novità, ditemi che cosa ne pensate, scatenatevi qui sotto con i commenti, iscrivetevi da questa parte, lasciate un bel like e noi ci vediamo presto per altri aggiornamenti. Una buona domenica a tutti, ciao!